Conosciamo i volti e i profili dei sette assessori dell'amministrazione Mennella, tra esponenti storici della politica torrese e new entry che da oggi compongono il governo esecutivo cittadino. Li abbiamo ascoltati ai nostri microfoni. Michele Polese, vice sindaco ed assessore con delega ai lavori pubblici, all'edilizia scolastica e soprattutto al PNRR, materie importanti per il rilancio della città, da dove si parte e quali saranno i primi passi della nuova azione politica. Subito mi interfaccerò con i dirigenti di settore di riferimento e subito dopo, avuta una comprensione specifica delle problematiche, delle progettualità in essere, delle criticità, mi farò sicuramente carico di comunicare alla città attraverso la stampa quelle che sono le priorità che andremo a mettere in essere nel breve periodo, nel medio periodo e nel lungo periodo. È stato tra i consiglieri comunali più votati, ritorna ad essere nuovamente vice sindaco della città di Torre del Greco. Sono cambiati i tempi, è cambiata la città, quali saranno e quali sono i punti deboli ma anche i punti dai quali ripartire per rilanciare il territorio di Torre del Greco. Ho cercato di comprendere esattamente la dimensione dei problemi, trovo un comune totalmente diverso, insomma, io ho lasciato nel 2000, ormai nel 2005, un comune che era organizzato in maniera totalmente differente. Oggi troviamo settori nei quali non ci sono addetti e quindi io credo che la prima cosa da fare è impiegare risorse umane nei settori che sono strategici. Quali saranno i primi obiettivi per la città di Torre del Greco considerato il problema rifiuti? Il problema rifiuti è quello che da sempre attanaglia la città di Torre del Greco ma è diventato anche un modus operandi relativamente all'intera gestione amministrativa della città che è riferita solo ai rifiuti. I rifiuti vanno inseriti nel ciclo integrato dei rifiuti e quindi bisognerà avere un approccio organico e molto molto più ampio rispetto al tema della singola sacchetta che viene depositata. Quali saranno i primi passi e le immediate azioni per cercare di rilanciare non soltanto l'ufficio anagrafe ma anche per risolvere il problema personale del comune di Torre del Greco? Per risolvere il problema del personale sarebbe necessario acquisire nuovo personale. Cercheremo di ottimizzare al massimo le forze che abbiamo e vedremo se sarà possibile attingere a dei fondi o a delle liste da cui possibilmente prendere dei lavoratori anche a tempo determinato che possano sostenere o rinfoltire l'organico stremato dell'ufficio anagrafe. Attenzione naturalmente molto forte al settore delle attività produttive, un settore che subisce fortemente gli effetti della crisi deflattiva e inflattiva oggi presente e che ha bisogno di essere molto supportato. Deleghe importanti per il rilancio della città ma soprattutto per il benessere anche del cittadino ed il benessere sostenibile. Un assessorato nuovo che non ha precedenti nel territorio del comune di Torre del Greco alla transizione ecologica, ai beni pubblici e alla partecipazione. Sono molto onorata di ricoprire questo ruolo e porteremo in qualità di delegata del Movimento 5 Stelle tutti i valori e le linee programmatiche del Movimento sull'energia green, sull'efficientamento energetico, sul trasporto sostenibile per contemperare le esigenze di mobilità dei cittadini con le esigenze di riduzione dell'inquinamento. In materia di politica sociale un settore delicato ma anche un settore molto ampio di questa comunità cittadina. Quali saranno i primi interventi, quali saranno i primi ragionamenti da mettere in campo? Allora io attingerò dalla mia esperienza perché io mi sono sempre occupata di coordinamento di servizi ai minori e alle donne. Ho lavorato come coordinatore di Asini Nido, servizi educativi all'infanzia, centri antiviolenza e quindi mi piacerà attingere da questa esperienza. Mi sono sempre trovata dall'altra parte, a dialogare con i comuni in quanto coordinatori di servizi. Adesso mi piacerà mettermi a servizio della mia città finché anche a Torre del Greco possiamo godere di servizi che sono necessari per la cittadinanza. Già un'idea di come intervenire e da dove iniziare per la riqualificazione dell'area portuale. Si potrà sperare nella realizzazione di un porto turistico per questa città? Io credo proprio di sì perché è un porto borbonico ovviamente come quello di Portici e quindi ne va valorizzata la sua origine e la sua importanza e credo che effettivamente io sono solito venire ogni domenica a fare la mia passeggiata qui al porto perché lo ritengo uno dei più belli di tutta la costa, il centro storico, ci sono tante potenzialità inespresse che vanno salvaguardate e migliorate. Vorrei ringraziare il sindaco per l'incarico che mi ha voluto concedere e di prestigio. Come si può intervenire già da subito per risolverlo, per rilanciare la macchina comunale considerato che è uno dei problemi al momento maggiori che grava sulla efficienza e sul benessere della comunità? Vedremo, ora vediamo, innanzitutto andremo un attimo a comprendere l'organizzazione partendo ovviamente sempre dalle risorse esistenti, poi procederemo a vedere come poter agire sulle mancanze per permettere, per consentire alla macchina comunale di poter espletare al meglio le proprie attività in tutti i settori. Grazie per la visione! Grazie a tutti!